Voglio rassicurare ai cittadini che non si tratta di cartelle pazze. Il comandante della Polizia Municipale di Filincisa, Alessio Pasquini, precisa oggi che cosa è successo con i circa 1900 avvisi bonari recapitati ad altrettanti cittadini del Comune e relativi a multe risalenti a 2013 che risulterebbero non pagate. Questa di per sé, afferma Pasquini, è una pratica ordinaria che viene fatta ogni anno. In buona sostanza si comunica che non risultano pagate appunto delle multe e si chiede o di pagarle oppure di attestare che sono state saldate prima che vadano iscritte al ruolo. In questo caso è successo che di questi 1900 avvisi recapitati una parte fra i 300 e i 400 non sono corretti perché le multe erano state pagate regolarmente. Quindi sono scattate le rimostranze dei cittadini coinvolti in questo malinteso. Dobbiamo ancora verificare, continua Pasquini, se ciò è dovuto ad un errore nella trasmissione dei dati da poste italiane oppure se è un problema che dipende dal nostro comando. Ovviamente che ha regolarmente pagato, basta che si recchi dalla Polizia Municipale con la ricevuta e il tutto verrà risolto in pochi minuti. Se nel caso la ricevuta non ci fosse più o fosse andata smarrita, è possibile effettuare una ricerca tramite poste italiane che attesti l'effettivo avversamento. Mi scuso con i cittadini, termina il comandante Pasquini, per il disagio. Stiamo cercando di capire esattamente che cosa è successo e soprattutto cercheremo di fare il possibile perché in futuro questo non accada più.